leo la portiamo a casa questa coppa venivamo da tante finali alcune vinte le ultime due perse sempre in questo palazzetto stasera abbiamo voluta fortemente voluta contro un grande avversario è stata durissima terza e quarto sette senza tregua alla fine ce la portiamo a casa noi sono molto contento perché veramente giocare la parola così non è facile c'è stato un cambiamento una novità e abbiamo dovuto affrontarla per quello credo che abbiamo faticato un po ma niente sono contentissimo che al nostro tifosi le possiamo regalare questi trofei a tutta la società tutta l'italia anche e all'ucraina è il momento più difficile che hanno loro allora auguri per noi auguri per tutti e che posso dire bella partita oggi per la prestazione delle squadre veramente ci abbiamo tenuto molto forte in partita stasera ti do a calzare tra poco ti do a calzare la coppa leo e mi raccomando con stile sì 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 ringrazio a dio prima di tutto perché mi ha lasciato questa possibilità veramente da capitano uno sempre pensa è un onore portare la coppa in alto allora questa questa sera mi corresponde a me allora grazie signore grazie leo grazie a tutti